Con la celebrazione dell'ultima seduta del Consiglio Provinciale si è concluso il mandato dell'organo elettivo della Sesta Provincia Pugliese e ora si aprirà il percorso che porterà all'insediamento dei nuovi organi di secondo livello, voluti dalla riforma del Rio, di cui non mi è mai piaciuta l'impostazione di fondo, se mai ve ne sia stata una, e non ho mai condiviso le ipotesi avanzate sulla questione province, dice il Presidente della Sesta Provincia Pugliese, Francesco Ventola, in una lunga lettera riflessione sulla chiusura del mandato dell'organo elettivo della provincia. Se l'idea era di eliminarle, nulla di tutto questo è stato fatto. Se l'esigenza era di ridurre i costi della politica e i relativi rappresentanti, l'elefante ha partorito meno che un topolino. La riforma, dice Ventola, ha letteralmente abortito, arrivando a cancellare il diritto alla rappresentanza diretta e creerà caos a nuovi enti e più figure politiche. Ma cosa è stato fatto dalla provincia di Barletta-Andriatrani? In questi cinque anni, dice Ventola, è cresciuto il senso di appartenenza delle nostre dieci città. Le relazioni sociali, produttive e commerciali sono aumentate enormemente. Gli amministratori locali hanno condiviso progetti ed interventi. Pensando alle condizioni di partenza, la provincia ha fatto molto di più dell'immaginabile nel cercare di svolgere il suo compito di programmazione di investimenti, opere pubbliche e servizi. Il rischio che ora si corre è che il patrimonio maturato da tale istituzione, in termini di esperienze, di iniziative, di rappresentanza e di tutela della comunità, possa in qualche modo disperdersi. E questo non deve accadere, dice Ventola, che in un momento di bilanci, aggiunge, è stata un'esperienza esaltante. Ognuno ha dato tanto. La maggioranza ha saputo indirizzare le politiche dell'ente sostenendo l'indirizzo programmatico presentato in aula. L'opposizione ha saputo interpretare il proprio ruolo critico con senso di responsabilità, spesso e globalmente, al di sopra delle appartenenze. Ora però, dopo cinque anni di passione e di impegno, la legge del Rio mi assegna il compito di accompagnare questa fase di transizione che durerà qualche mese, conclude il Presidente Ventola. Certo non mancheranno tante altre occasioni per tornare a parlare di quanto siano stati importanti questi cinque anni, di quanta gente vada ringraziata per l'impegno profuso. Convinti, conclude Ventola, che se in cinque anni tanto è stato fatto, ancora molto bisognerà fare per il territorio della provincia di Barletta-Andriatrani. Prossimo appuntamento per tracciare il bilancio dell'operato della sesta provincia pugliese, la presentazione del bilancio sociale dell'ente.